Grazie per l'invito ovviamente. Io vi racconto una piccola parte di quello che fa la Regione Piemonte in materia di energia, cioè attività di promozione dell'efficienza energetica a beneficio della pubblica amministrazione realizzata prevalentemente attraverso progetti europei. Quindi a proposito di tenere tutto insieme, anche non solo la parte meridionale dell'Italia, ma tutta l'Europa è un buon auspicio per iniziare. Allora, efficienza energetica e pubblica amministrazione. Attualmente la contabilità energetica fa un po' cilecca per capire esattamente quanto consuma l'intero settore pubblico a livello locale o regionale. Comunque ci sono delle stime, qui trovate dei numeri. Di fatto il comparto rappresenta il 6% del settore civile, il 3% del consumo finale complessivo di energia in Regione. E' in fase di approvazione o in realtà di riadozione da parte dell'Aggiunta regionale il piano energetico regionale dopo la procedura di VAS, in cui si definiscono degli obiettivi al 2030. E' l'obiettivo assegnato al settore abbastanza sfidante, circa il 10% dell'intero obiettivo di riduzione dei consumi a livello regionale. Allora, per parlare di progetti partiamo dai presupposti di che cosa stiamo parlando, insomma come promuovere l'efficienza energetica nella pubblica amministrazione. Partiamo da una serie di barriere che spesso vengono citate e comunque voglio richiamarle a mancanza di conoscenze tecniche e soprattutto dal personale. Devo dire che nel personale dei comuni soprattutto c'è delle persone molto in gamba, molto valide, che però si devono occupare di 10.000 cose. Quindi c'è una difficoltà a specializzarsi, entrare nel merito delle questioni. Ovviamente anche difficoltà a cogliere l'opportunità dell'innovazione tecnologica in atto. Il mondo cambia molto rapidamente, come potete sapere. È difficile tenersi aggiornati, quali sono le opportunità che ci sono e anche a star dietro al mercato. Abbiamo una serie di operatori che si avvicinano sempre di più alla pubblica amministrazione vedendolo come un buon cliente e le proposte non sempre sono allineate all'interesse pubblico. Comunque a volte lo sono, è difficile anche adottarsi le capacità di valutazione in modo appropriato di queste proposte. E poi c'è un problema grosso il cui verterà parte della mia relazione, un fattore di scala. In Regione Piemonte abbiamo più di mille comuni, sono quasi tutti piccoli, piccolissimi. Spesso il problema di scala è un problema essenziale, sia per gran parte delle barriere che ho anticipato prima, sia per offrire al mercato un investimento interessante. E poi c'è anche un altro problema che è quello di incapacità di comunicare le cose fatte. Io sostengo che si possono fare tantissime cose, se ne potrebbero fare molti più, ma molte cose si fanno. Spesso però non si fa giusta comunicazione sulle cose che effettivamente sono realizzate. E allora, per rispondere a queste barriere, abbiamo ipotizzato alcuni progetti, alcune iniziative a sostegno dei piccoli comuni, prevalentemente piccoli e medi comuni, che seguono questo approccio, diciamo, one stop shop, come viene definito a livello europeo. Di fatto, l'offerta di un pacchetto di servizi a supporto dei comuni, che possa, diciamo, portarli, accompagnarli nel percorso di investimento. Un classico esempio è che abbiamo una serie di comuni con una serie differenziata di patrimonio, ipotizziamo patrimonio edilizio. Quello che noi abbiamo fatto in alcuni progetti è andare a selezionare quelli edifici che potessero essere appetibili per operazioni interessanti di efficienza energetica, quindi andare a scartare quegli edifici che magari hanno dei vincoli o i casi in cui ci sono dei contratti che impediscono la realizzazione di alcuni progetti. Abbiamo proposto un raggruppamento e quindi andiamo a formare un gruppo di edifici che va a, diciamo, a superare i confini amministrativi comunali. Noi cerchiamo di fare un'operazione di aggregazione della domanda e quindi, da un punto di vista, diciamo, di pubblica amministrazione, una grossa innovazione amministrativa. Prepariamo un investimento. Cerchiamo di fare una gara congiunta che quindi mette a disposizione del mercato un portafoglio di investimenti più interessanti e, diciamo, renda possibile la realizzazione degli interventi. Ovviamente tutto questo processo ha bisogno di un forte coordinamento per creare il consenso politico, il raggruppamento, il coordinamento degli invarianti. Ha bisogno di un processo di assistenza tecnica di carattere ingegneristico, economico, per la preparazione dell'investimento e, ovviamente, un'assistenza giuridico legale per la preparazione di procedure legali che non sono così standard. Per sviluppare questo modello siamo andati, diciamo, dietro a un'altra ricerca di innovazione, questa più innovazione tecnico-contrattualistica, che è quella fornita, diciamo, dall'Energy Performance Contract, che è una forma contrattuale che si basa sul principio in cui il risparmio energetico paga l'investimento, di fatto, e per fare ciò si coinvolgono degli operatori privati, degli investitori privati, in grado di anticipare l'investimento e in grado di, quindi, non vendere dei lavori, ma vendere una prestazione energetica, ripaghiare i lavori offerti attraverso il risparmio energetico e sottoscrivere con i comuni un contratto di durata, quindi una durata sufficiente a ripagare gli investimenti proposti. Questo modello, diciamo, tecnico-amministrativo l'abbiamo proposto in più operazioni sul territorio, sia per promuovere l'efficienza energetica negli edifici, ma anche sull'illuminazione pubblica, con risultati, devo dire, in alcuni casi molto soddisfacenti, adesso ve ne presento altri, ma con un percorso a ostacoli molto faticoso, perché, diciamo, i costi di transazione legati alla creazione del raggruppamento, il coordinamento, convincere i comuni che la strada è giusta, eccetera, è sicuramente un'attività che non ha payback e che quindi è giusto che un'amministrazione sovraordinata ai comuni facce. Attività che, come rappresentate in questa tabella, sono realizzate prevalentemente grazie al finanziamento dell'Unione Europea. Un caso di riqualificazione energetica, di illuminazione pubblica, ad esempio, su sei comuni molto piccoli, 3.000 punti luce in totale, quindi comuni realmente piccoli. Abbiamo fatto l'aggregazione, portati a gara congiuntamente, è stato firmato recentemente il contratto di attuazione PC, un contratto di durata, come dicevo, 13 anni, il primo anno per la realizzazione degli interventi e 12 anni per la gestione. Un risparmio garantito molto interessante in termini energetico e quindi, diciamo, da un punto di vista ambientale, il risultato è sicuramente importante, circa il 70% rispetto alla situazione pregressa. Un risparmio economico sulla spesa corrente di circa poco superiore al 10%. Investimenti di circa 2 milioni e mezzo fatti interamente da un investitore privato che troverà ristoro del suo investimento, come dicevo, durante la gestione del contratto. Un altro esempio, sempre nell'ambito di questo progetto 2020 Together, legato agli edifici. Qui abbiamo messo insieme 18 edifici appartenenti a 5 comune dell'Inter lantorinese, Bruinor Bassano Nonna e Pio Sasco Volvera. Anche qui un contratto di PC firmato di 13 anni, schema quindi contrattuale simile in termini di durata, un anno per la realizzazione degli interventi e 12 anni per la gestione. Un risparmio garantito del 60%, quindi verso il concetto di Deep Renovation che l'Unione Europea sta portando avanti. Anche qui risparmi sulla spesa corrente rispetto a quanto si spendeva inizialmente, di circa poco più del 10%. Mole di investimento paragonabile a quella precedente. Ecco che è importante segnalare che un contratto del genere difficilmente sarebbe stato realizzabile se ogni comune fosse andato autonomamente da solo a gara, mentre invece l'aggregazione di domanda crea le condizioni affinché operatori privati, in questo caso la Bosch, Energy Solutions, quindi un grosso player europeo, fosse interessato a venire a investire direttamente sulle strutture. Interventi di fatto già realizzati, quindi il 15 ottobre è iniziata la prima stagione dei 12 anni di gestione in cui vedremo di anno in anno quali saranno i risultati. Una prima, diciamo, confortante stima dei risultati del primo anno di gestione, del primo anno dei 13, diciamo. Quindi l'anno in cui si sono realizzati gli interventi e la Bosch di fatto ha preso già in gestione gli edifici, si è già risparmiato circa il 30% rispetto ai consumi storici, 30% che è un buon risultato se pensiamo che gran parte dei lavori di coibentazione sono stati collaudati quest'estate. Quindi, diciamo, gli interventi non sono stati in grado ancora di esprimere il loro potenziale effettivo. Queste sono le immagini degli edifici prima di essere oggetti di riqualificazione. Qui ci sono delle immagini, diciamo, relative ai lavori. Gli interventi sono stati particolarmente interessanti perché tutti e 18 gli edifici hanno ricevuto una riqualificazione dell'impianto termico e, diciamo, sicuramente un intervento di termoregolazione. 13 edifici del pacchetto hanno ricevuto interventi di isolamento tetto o pareti, complessivamente o parzialmente, diciamo, l'intervento a cappotto realizzato. 6 edifici hanno avuto anche la sostituzione degli infissi e un edificio è stato certificato NZEB, quindi Zero Energy Building, che è sicuramente lo standard del futuro, quasi presente, diciamo, che bisognerebbe tenere presente. Questo è sicuramente un esempio che illustriamo volentieri e siamo chiamati, insomma, in giro per l'Europa a rappresentare proprio per la forte componente innovativa in termini amministrativi, gestionali e contrattualistici che sono state messe in piedi. Un'immagine dell'inaugurazione dell'edificio NZEB a Bruino che è stato fatto lo scorso maggio di quest'anno. Io fermerei qui. Grazie per l'attenzione. Grazie.